Con l'arrivo dei vaccini di AstraZeneca in provincia di Grosseto si continua la vaccinazione e se arriveranno le dosi previste in due mesi tutta la popolazione sarà coperta. Intanto nelle RSA è stato completato il percorso con la seconda dose, ma ci sono state situazioni difficili? No, non ci sono stati, fortunatamente abbiamo visto che effettivamente su alcune persone la seconda dose era un pochino più difficile, c'è stato un po' di febbre, alcuni dolori, un po' la sensazione tipica dell'influenza. Non è stato così nelle RSA. È vero che qualcuno dice che è più sulle persone giovani questi effetti indesiderati che sugli anziani oppure, come mi piace pensare, i nostri anziani nelle RSA hanno una fibra d'acciaio. Qual è la differenza tra i vaccini e soprattutto quali possono essere le complicazioni? Non ci sono difficoltà, non ci sono problemi perché il percorso che arriva all'utilizzazione del vaccino, che dà l'ok all'utilizzazione del vaccino, è molto complesso, è molto lungo e è testato da organizzazioni internazionali. Quindi è assolutamente tranquillo il vaccino. Ovviamente i dati ci hanno detto che non tutti coprono lo stesso modo, cioè l'AstraZeneca è più indicato nelle persone giovani e quindi allo stato attuale ci limitiamo ai 55 anni. I vaccini, a quello che pensiamo, fra qualche mese ci saranno abbondanti ed ecco perché ci attrezziamo a fare 2.000 vaccini al giorno.